Tiro, Urbana, la palla larga per Duris, attenzione alla conclusione volare, Nici spaccata, para, ancora un grande intervento da parte dell'estremo difensore Azzurro dopo aver messo dentro la rete in precedenza, attenzione a Marrochi, adesso il tiro di Pablo Marrochi che sale in cattedra, il professor Marrochi tira fuori l'Italia dal momento di difficoltà, 23-18. L'elevazione, va dentro Turcovic, da Piran, va in elevazione a lui, è un gol importantissimo, questo di Gianluca da Piran che la mette dentro, 26-23, quando più serviva? Con negli occhi un paracazzane dipinto da Azzurro, tutti in piedi, standing ovation per questa nazionale.